Nicola Salvatore, laterale dello Sporting Campobasso, per te è il primo anno qui con lo Sporting, quindi sei un nuovo arrivato. Sì, ringrazio la società e il mister che hanno creduto in me, ritrovo il mister Pietrunti dopo che mi ha allenato in Under-19 alla Chaminade e speriamo che la stagione possa andare bene, cercherò di dare il mio contributo. Mister Pietrunti conosce praticamente tutti voi, perché alcuni si allenano già insieme da due anni, altri li ha allenati nel corso degli anni con l'Under-19, quindi si può dire che è una squadra che ha già la giusta intesa. Bisogna solo lavorare bene, fare bene durante la preparazione per farsi trovare pronti. Sì, entri in una squadra già rodata, come hai detto tu, si conoscono molto bene. Noi che siamo i nuovi arrivati cercheremo di integrarci al meglio, ma penso che ci riusciremo perché gli altri giocatori ci daranno una grossa mano. Ecco appunto, quindi sicuramente è una squadra che ha già tutti i punti a suo favore, compreso il fatto di essere tutti i ragazzi molisani, tutti i ragazzi della zona e quindi sostanzialmente ragazzi che si conoscono e che possono veramente fare bene per questa prima stagione in Serie B. Sì, come hai detto tu, credo che faremo una grande stagione, ci conosciamo tutti e ora vedremo con gli allenamenti di assimilare gli schemi del Misser e ci faremo trovare sicuramente pronti per l'inizio di stagione. Durante la preparazione avete già programmato delle amichevoli, la prima contro il Canosa, una squadra che quest'anno si appresta a vivere la sua prima stagione in Serie A 2 Elite, quindi una categoria importante che sicuramente vi servirà questa amichevole anche per limare dettagli prima dell'inizio del campionato. Sì, assolutamente, penso che sarà un bel banco di prova, certamente partiremo sfavoriti, loro sono di due categorie superiori, però cercheremo di dare il massimo e il risultato non conta in queste partite, ma conta assimilare gli schemi e provare cose nuove. Che cosa ti ha spinto a sposare questa causa e quindi sostanzialmente a venire qui? Io l'anno scorso ho giocato contro di loro in Serie C e ci hanno battuto sia all'andata sia al ritorno, quindi mi piaceva il gruppo, mi piaceva come giocavano ed è una sfida nuova, speriamo che vada bene. Quali sono i tuoi obiettivi personali, cosa pensi di dare tu allo Sporting? L'obiettivo personale è di giocare il più tempo possibile, sperando di dare una grossa mano alla squadra e speriamo di aiutare la squadra all'obiettivo.